Prima di compilare il modulo si raccomandano le persone di igienizzare le mani, dopodiché si prende la penna e si compila bretatoriamente il questionario, la scheda di valutazione del pretriage per individuare se il paziente ha avuto contatti con pazienti infetti, se ha febbre, se ha dei sintomi legati al test Covid. Una volta compilato il modulo, se il paziente deve fare il test Covid, compila anche questa scheda per dare il consenso all'esecuzione del test. Una volta compilate le due schede, il paziente entra all'interno del laboratorio per l'accettazione. Si possono fare esclusivamente due accettazioni per volta distanziate da un metro e una volta terminato l'accettazione possono entrare gli altri pazienti. Quindi questo percorso viene fatto proprio per il contenimento e per evitare eventuali contagi.